Ho girato e rigirato senza sapere dove andare ed ho cenato a prezzo fisso seduto accanto ad un dolore Tu come stai? Tu come stai? Tu come stai? E mi fanno compagnia quarant'aniche le mie carte anche il mio cane si fa forte e abbaglia la malinconia Tu come stai? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.